Era stata sospesa per motivi disciplinari per 11 mesi con contestuale sospensione dello stipendio. Ora la dirigente Laura Picciurro verrà rimborsata dal comune di Bagheria per la bellezza di 93.000 euro lordi. La vicenda, da mesi al centro dell'attenzione delle varie procure, tra le quali quella termitana, pone sotto i riflettori il sindaco Patrizio Cinque. Sarebbe stato proprio quest'ultimo a decidere di sospendere la burocrate per quasi un anno dal suo incarico. Dal marzo 2015, infatti, la Picciurro avrebbe ricevuto 13 contestazioni, dalle quali sarebbero scaturiti 4 provvedimenti di sospensione con conseguenziale blocco dello stipendio. Per il Tribunale del Lavoro di Palermo, però, la decisione del primo cittadino sarebbe illegittima. Coincidenza, la donna in precedenza aveva presentato un esposto in merito ad un affidamento da 3 milioni di euro del comune alla ditta TEC del settore rifiuti. Inoltre, avrebbe anche chiesto di essere ascoltata in commissione antimafia Lars, dove avrebbe descritto le presunte anomalie dell'appalto deciso grazie ad un'ordinanza del sindaco, che di fatto, dopo mesi di indagini, risulterebbe non aver rispettato la legge. Reintegrata sul posto di lavoro per ragioni di opportunità spiegate da 5 in una nota ufficiale e rimborsata, la Picciurro, però, continua la sua battaglia, questa volta sul penale, contro gli assessori Maria Laura Maggiore, Fabio Atanasio, l'ex assessore Luca Tripoli e il segretario generale del comune di Bagheria, Eugenio Alessi.